Siamo qua davanti alla partenza dell'apparatone al riparto e tra altre quattro ore partiremo. Arriviamo? Ci siamo dai Stefano. Ok ok, tutto bene dai siamo qua dall'inizio, carottine olimpiche. Sono in due, due, quattro, cinque, sei con me dai. Siamo qua. Aspettiamo, prima partiranno gli unbikes, dopo partiamo noi. Questo qua va come un treno. Ok, prestigia questo qua. Dove? Dove sei? L'Irlanda. Ah, l'Irlanda. Ok, bene bene. Facciamo la partenza adesso, questo partirà. Guardiamo che c'è qua. Ci sono gli unbikes davanti di noi, noi partiremo dopo. Vediamo. Vediamo, vediamo, vediamo. Paolo Carlo, Dicenzi Spina del Torbio. Ok. Allora, è molto bello. Il ruolo nazionale, 8.45. Ma prima è il mondo dell'inversa mediale. L'inversa mediale, l'inversa mediale, l'inversa mediale, l'inversa mediale. Decidesi giunto e torno al temporale del campione elettrico. Grande protagonista l'Irlanda degli Aguani e l'uomo da battere. 20 secondi. Va bene. Facciamo l'applauso amici. Mi frego, mi frego. 10, 9, 8, 6, 5, 8, 9, 9, 9, 10, 9, 10, 10, 10, 10, 11, 11, 11, 12, 12, 13. E' questo il momento che dà il Vado, vado, vado! La loro fatica, l'attesa ci allunghi tanto i palloncini tricolori e il partito. Andiamo con voi, che va la venta? Passiamo per la prova dei ragazzi non vedenti, che si seguono con la partita di Vado, con un'idea sistematica. Grazie! Bravo! La più grandezza, la più grandezza, la più grandezza, la più grandezza, la più grandezza. Ciao, grazie! Vediamo! Partito numero 16! Grazie! Grazie! Partiamo subito con la salita! Grazie! Adesso mescaldo! Siamo a due chilometri e mezzo circa. C'è un po' di aria sfavorevole, però va bene dai, grazie a voi, ciao! Faccio fatica a tenere i sette e mezzo, ciao! Eh, c'è un po' di aria contro aria per me. Basta niente che ne frega! Comunque ci va bene dai! Andiamo avanti! Ok dai, siamo... Dovremmo essere al terzo ormai! Credo che manca poco! Sono in mezzo alla mischia! Bravo! 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 Bravi che mi tagliate un po' l'aria! Bravi, bravi! Ok! Ecco il terzo chilometro! Stefano, tutto bene? Basta! Andiamo! Siamo al quarto! Stefano, andiamo! Vai, vai Mauro, vai! Dai che siamo al sesto dai! Dai! Abbiamo un po' l'aria contraria anche! Però... Però andiamo! Andiamo, andiamo! Eccolo lì il sesto! Oh che aria che aria! Dai Mauro, dai che ne! Eh ma che aria! E me sta un po' più grande! Poi è lunga ancora eh! Allora vedo che... Ehi! Sì! Arriva, arriva! Grazie! Vai, vai! Andiamo, andiamo! Dai che siamo all'ottavo! Dai Stefano! Ok, ok! Grazie! 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 Non posso arrivare lì! Siamo al decimo chilometro in... Un'ora e ventiquattro circa! Siamo al decimo dai! Andiamo, andiamo! Stefano, andiamo! 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 Stefano! Sto bene! Guarda! E spinge l'aria qua! Sì! Sì! E' il titico di dodici! Dodicesimo! Dodicesimo! Sì! Vai vai! Sì! Stiamo! Sì! Vai vai! Quattordicesimo! Sì! 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 Ta ce l'ha saprato! Bacchi! Grazie! 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 Sì! Sì! Benissimo! Sì! 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 17 Mauro Vai che Vai vai che Vedo bene Mauro Vai 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 Vedi la bandierina che la sventola Allora 21 in 2 ore e 50 Alla grande Mauro Benissimo Ok dai ci siamo quasi Siamo giunti alla mezza Ecco il tappettino Il mini tappeto Potevate mettermelo dall'altra che avevo ben fatica Quanto tempo? Dimmi il tempo C'è scritto Dovrebbe essere 2 ore e 54 Va bene dai Non so se è giusto Ma più o meno Siamo lì dai Vai vai Mauro Vai Mauro Vai Mauro 24esimo Ecco il 25esimo chilometro Lì davanti a me Abbiamo fatto 25 chilometri Circa In 3 ore E 23 Quindi sono oltre i 7 all'ora Va bene Adesso non è la media Nonostante il vento Nonostante il vento Eh ma mi ha fregato il vento Non va iniziare Adesso ho così Un attimo Va bene va bene Tutto ok Siamo al 26 Tutto bene Siamo Va bene dai siamo al 29esimo Siamo qua Stefano tutto bene Siamo qua Vai Mauro Bene Siamo passato al 30esimo Siamo al 32esimo Andiamo dai Andiamo bene Andiamo bene vai vai che te vedo bene ok siamo quasi al 35esimo chilometro penso che ormai questa salita qua si trova vicino per andare al santuario di Sant'Antonio è finita ormai ci siamo eccolo lì 35esimo passiamo insieme al signore qua ciao ciao va bene si stiamo tutti e due tranquillo ciao ciao Allora Mauro siamo al 38 Siamo al 38 seconda Ormai non ci siamo e basta La formula è anche Siamo al 38 Allora Mauro Allora Mauro Allora la discesa adesso Adesso la moglie adesso Ora prendiamo il centro va Facciamo un po' di bolognini fra poco Grazie Grazie Quarantesimo eccolo qua Siamo passati il quarantesimo adesso Grazie 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 Sì 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 E' un po' facile per pocio, va? Scusate! Non mi fa una mica mica! E dai va bene, va bene! Non mi fa un palantuno, ormai? Grazie! Inferno a te dai! Vai, ci siamo, dai! Inferno a te dai! Inferno a te dai! Grazie! 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 Grazie. Buongiorno. Buongiorno, buongiorno. Buongiorno. Dai, stai a mano. Mi racconti i sassi qua. È là in fondo. Alla fine. Alla fine. Beh, il percorso non è più facile di quasi sassi. Come tagliate? Grazie. Vai, basta. Non c'è più nessuno. Basta, nemm, nemm. Basta, non c'è la seconda. Basta. Vai, vai, che appena arrivo allora. Tira un po'. Vai, vai. La lancio adesso. La lancio, la lancio. La lancio contro i sassi. La lancio. Che lancia qua. Grazie. Andiamo, andiamo. Andiamo con i sassi, andiamo. Occio Colombi che vestirò qua voi. Via. Ciao. È messa la parola arrivo ormai. È mancato ben poco ormai. Penso che era arrivo quello lì. Ecco il 42esimo. Mancano 195 metri. Ormai ci siamo qua. Allora, ancora sia qua. Stiamo sia, hop. Saltiamole via, saltiamo, saltiamo. Via. Tommasi. Chiara, vieni qui. Chiara, vieni qui. Chiara, vieni qui. Un altro protagonista della partita di oggi. La gritta, la caparchietà dell'Atleta Veneto. Sono trentino, comunque va bello stessa. Peggiore, non si può per dire. Il tempo della prova trevigiana. Ma questo non scoraggia. Nello scoraggia. La tenacia. La caparchietà dell'Orente. Sempre. Grazie. Bene, grazie. Applausi a lei. E a questo punto, Chiara è tutto il tuo. Io vado a prendere un caffè. Grazie. Vai Mauro. Arrivo, arrivo. 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 Grazie. Arrivo, arrivo. Arrivo. Dai Mauro. Grazie. Grazie. Meraviglioso. Molto mazzi. Era con questo sorriso anche al passaggio da Campo San Piero. Questo è un rito per gli amici che in questa emozione l'ho tolta sul suo volto. Testimone Messia, la sua capo. Eccola qui, la Liga di San Torre. Grazie. Per il suo varieteno. Oh Chiara. Grazie. Grazie. Anderando le belle donne padovane. Noi che stavamo facendo shopping. Grazie. Grazie. Eh ma c'era molta più aria di Treviso qua. Bello. Madame Messiae. La maratona di Paola è finita. Facciamo la migraia. Ci passati. Ok, lei si è passata. E' non passata un'altra volta! Grazie! 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 Grande lavoro! Grazie! probabilmente è atteso a Femmelender con un grande ottimismo al tuo arrivo che giustamente si è materializzato. Grazie! Grazie!